Mettiamo a forte rischio il futuro di Aset e non è fare allarmismo. La realtà è che un'azienda, ma come tutte le aziende, se non fanno investimenti sono destinate prima o poi a chiudere. Non si può pensare che un'azienda possa durare in eterno se non ha la forza di aggiornarsi. Gli investimenti in questo momento, gli impianti, sono strategici per poter pianificare e programmare il futuro dell'Aset. Sono 287 dipendenti che non voglio mettere in allarme nessuno, ma rischiano seriamente un futuro, come il futuro del comune di Fano. Io mi auguro che si possa recuperare, ma la vedo piuttosto dura anche perché non è Marche Multiservizi che fa l'investimento, ma è un'azienda privata, Green Factory, che si mette sul mercato e dice che sono disponibile a prendere i rifiuti organici della provincia, come qualunque altra attività industriale. La vedo molto complicata. Abbiamo perso tempo, ci siamo persi dietro discorsi inutili, mai una presa di posizione, questo in modo particolare del sindaco e della sua lista, che mi spiace perché in questi anni si è sempre collaborato su tutte le questioni, ma su questa questione c'è una profonda delusione e credo anche che ci potranno essere delle conseguenze anche sul futuro, anche sugli obiettivi che questa amministrazione intende darsi. Il digestore era uno di quei progetti, di quegli obiettivi che ci siamo dati ormai da 6 o 7 anni e di fatto viene osteggiato da una parte della maggioranza. Non so adesso quali saranno le conseguenze, ma ce ne saranno, questo è ovvio. Viene meno la fiducia degli alleati di un percorso da fare insieme. È ovvio che bisogna riflettere. Spero, mi auguro, a breve di avere un incontro con il sindaco, ho fatto già da ieri una richiesta di una maggioranza che probabilmente avverrà nella giornata di oggi. Mi aspetto parole chiare, nette, dopodiché trarremo le conseguenze.